Multe salate per chi viene fermato in macchina senza che abbia un valido motivo di quelli richiesti dai DPCM. E una delle principali novità introdotte dal decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri è illustrato nei contenuti dal Presidente Giuseppe Conte. Sono confermate le restrizioni, almeno fino al 3 aprile. Sono ancora troppe però le persone che non si attengono alle regole per il contenimento del coronavirus e si spostano indebitamente in macchina senza motivo di necessità, urgenza o comprovate esigenze lavorative. Da qui l'inasprimento. La multa, come dicevo, va da 400 euro a 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione sia stata compiuta attraverso l'utilizzo di un'autovettura, di un veicolo, allora la sanzione è aumentata fino a un terzo. Quindi c'è soltanto un aumento di queste somme fino a un terzo se il trasgressore viene colto alla guida di un autoveicolo. Quindi non c'è il fermo, per intenderci, non c'è il fermo amministrativo. Il decreto legge regola anche il coinvolgimento del Parlamento che finora è rimasto ai margini dei provvedimenti presi d'urgenza dal Governo tramite una serie di DPCM. Il Presidente del Consiglio sarà chiamato a riferire in Parlamento con cadenza periodica di 15 giorni per fare il punto sull'emergenza coronavirus e permettere a tutte le forze politiche di confrontarsi e portare le loro proposte. Il Premier poi ha posto l'attenzione sul rapporto con le Regioni. Il Governo fissa le sue restrizioni per tutto il territorio nazionale lasciando la possibilità ai Presidenti di Regione di inasprirle compatibilmente al quadro locale di diffusione dell'epidemia. Fermo restando quindi che la disciplina di cornice ce la riserviamo noi come stato sul particolare Governo per quanto riguarda le misure restrittive lasciamo anche la possibilità alle Regioni di fronte a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario la possibilità di adottare se nel caso misure anche ulteriori ma solo in questo caso. Ulteriori precisazioni sui rumors privi di fondamento che si erano diffusi circa la reiterazione delle misure di contenimento fino al 31 luglio. Abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale per uno spazio di sei mesi o comunque sino al 31 luglio 2020. Questo non significa che le misure restrittive che adesso in questo momento sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020. Quello è lo spazio dell'emergenza ma noi siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo per allentare la morsa di queste misure restrittive ben prima di quella scadenza che avevamo ipoteticamente fissato all'inizio si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita.